Capitolo 14 Coriolanus si sentiva male, eppure non riusciva a distogliere lo sguardo. Sarebbe stato raccapricciante vedere una qualsiasi creatura esposta a quel modo. Un cane, una scimmia, un ratto persino. Ma un ragazzo! E un ragazzo il cui unico vero crimine era stato fuggire per salvarsi la pelle. Se Marcus avesse fatto stragi per tutta Capital City, sarebbe stato un conto, ma nessuna segnalazione di questo genere era seguita alla sua fuga. Coriolanus tornò con il pensiero alle sfilate che si erano tenute in occasione dei funerali. Le esibizioni più disgustose, Brandy che penzolava da un gancio e gli altri tributi trascinati per le strade, erano state riservate ai morti. Gli stessi Hunger Games avevano la perversa genialità di mettere i ragazzini dei distretti a combattere l'uno contro l'altro, in modo che Capital City non si sporcasse le mani con la reale violenza. Non esistevano precedenti per la tortura di Marcus. Sotto la guida della dottoressa Goal si era raggiunto un nuovo livello di ritorsione. L'immagine svuotò a Evansby Hall della sua atmosfera di festa. L'interno dell'arena non aveva microfoni, a parte qualcuno intorno alla parete ovale, quindi nessuno era abbastanza vicino da poter captare se Marcus stesse tentando di parlare. Coriolanus desiderava con tutto se stesso che il gong suonasse, per mettere in azione i tributi e per distrarli, ma l'immobilità iniziale si protraeva. Sentiva Sejanus tremare di rabbia, e si era appena voltato per provare a calmarlo, quando il ragazzo balzò dal suo posto e corse avanti. Il settore dei mentori aveva in prima fila cinque sedie vuote, riservate ai suoi compagni mancanti. Sejanus ne afferrò una d'angolo e la scagliò verso lo schermo, sfasciandola contro l'immagine del viso devastato di Marcus. «Mostri!» urlò. «Qui siete tutti mostri!» Poi si precipitò di nuovo lungo il corridoio e fuori dall'ingresso principale della sala. Nessuno mosse un muscolo per fermarlo. Il gong suonò in quel momento e i tributi si sparpagliarono. Quasi tutti fuggirono in direzione dei cancelli che portavano ai tunnel, molti dei quali erano stati aperti dalle recenti esplosioni. Coriolanus vide Lucy Gray, nel suo vestito colorato, dirigersi dalla parte opposta dell'arena e si aggrappò con le dita al bordo della sedia, spronando mentalmente la ragazza. «Curri!» pensò. «Scappa! Vattene da lì!» Un gruppetto dei tributi più forti scattò verso le armi, ma dopo averne afferrate alcune, Tanner, Coral e Jessup si dispersero. Solo Mortifer, ora munito di un forcone e di un lungo coltello, pareva pronto a ingaggiare battaglia. Quando fu sul punto di attaccare, però, non era rimasto più nessuno a combattere. Si voltò a guardare i suoi avversari che si allontanavano, gettò indietro la testa in preda alla delusione e si arrampicò sulla tribuna più vicina per dare inizio alla caccia. Gli strateghi colsero l'occasione per staccare su Lucky. «Avreste voluto piazzare una scommessa, ma non siete riusciti ad arrivare all'ufficio postale? Avete finalmente scelto un tributo da sostenere?» Nella parte inferiore dello schermo, lampeggiò un numero telefonico. Ora lo potete fare per telefono. Vi basta chiamare il numero qui sotto, dare il vostro numero identificativo emesso da Capital City, il nome del tributo e la somma che vi piacerebbe scommettere o donare, e farete parte dell'azione anche voi. Oppure, se preferite effettuare la transazione di persona, l'ufficio postale resterà aperto ogni giorno dalle 8 alle 8. Coraggio, non lasciatevi sfuggire questo evento storico. È la vostra occasione per supportare Capital City e guadagnarvi anche un bel gruzzolo. Partecipate agli Hunger Games e vincete! Ma adesso torniamo nell'arena. Nel giro di qualche minuto, l'arena era stata sgombrata da tutti i concorrenti, eccetto Mortifer, che si defilò a sua volta dopo aver girovagato un po' per le tribune. Marcus e la sua agonia tornarono a essere il fulcro dei giochi. «Non vai a cercare Sejanus», bisbigliò Lisistrata a Coriolanus. «Credo che preferisca stare da solo», sussurrò lui di rimando. Il che forse era vero, ma sempre meno importante è del fatto che non voleva perdersi niente o innescare una reazione della dottoressa Gol, né essere messo pubblicamente in relazione con Sejanus. L'impressione diffusa che fossero amici, che lui fosse il confidente della mina vagante venuta dai distretti, stava cominciando a preoccuparlo. Distribuire panini era una cosa, lanciare una sedia era tutt'altro. Di sicuro ci sarebbero state delle conseguenze, e lui aveva già abbastanza guai senza doverci aggiungere anche Sejanus. Trascorse una lunghissima mezz'ora prima che un diversivo attirasse l'attenzione del pubblico. Le bombe esplose vicino all'ingresso avevano aperto il cancello principale, ma sotto il tabellone segnapunti era stata eretta una specie di sbarramento. Con i suoi molteplici strati composti da lastre di cemento, assi di legno e filo spinato, era sia un pugno in un occhio, sia un promemoria dell'attacco dei ribelli, e forse era quella la ragione per cui gli strateghi non gli avevano dato grande visibilità. Ciò nonostante, vista la scarsità di avvenimenti, furono costretti a cedere per mostrare al pubblico una ragazza smilza e dalle lunghe gambe che strisciava fuori dalla barricata. «Quell'è la mina!» disse Cucciolo a Livia, seduta accanto a lui un paio di file davanti a Coriolanus, il quale non ricordava niente della protetta di Cucciolo, tranne il fatto che non era mai riuscita a smettere di piangere durante il primo incontro mentori-tributi. Cucciolo non era stato in grado di prepararla per l'intervista, e così aveva perso l'occasione di farle pubblicità. Non aveva presente quale fosse il suo distretto, il 5, forse? Una voce fuori campo, piuttosto stridula, gli chiarì il punto. «Stiamo vedendo la quindicenne la mina del distretto 7», disse Lucky. «Le fa da mentore il nostro Plinius Harrington. Il distretto 7 ha l'onore di rifornire Capitol City con il legname usato per le riparazioni della nostra cara arena». La mina esaminò Marcus, prendendo nota con uno sguardo della sua condizione. La brezza estiva le arruffava l'aureola di capelli biondi, mentre strizzava gli occhi per proteggerli dalla luminosità del sole. Portava un vestito che sembrava ricavato da un sacco di farina legato in vita con un pezzo di corda, e aveva le gambe e i piedi nudi costellati di punture d'insetti. Gli occhi, gonfi e stanchi, erano arrossati ma asciutti. Anzi, appariva stranamente tranquilla, considerate le circostanze. Senza fretta, senza nervosismo, attraversò il campo fino alle armi, e si prese il tempo necessario per scegliere prima un coltello e poi una piccola scure, verificando l'affilatura di entrambe le lame con la punta del pollice. Si infilò il coltello alla cintura e roteò con scioltezza la scure avanti e indietro, saggiandone il peso. Poi si avviò verso uno dei pali. Fece scorrere la mano sull'acciaio, arrugginito e macchiato di vernice per qualche utilizzo precedente. Coriolanus pensò che volesse tentare di abbatterlo, dato che veniva dal distretto del legname. Invece si mise il manico della scure tra i denti e cominciò a inerpicarsi, usando le ginocchia e i piedi callosi per fare presa sul metallo. Sembrava naturale, come un bruco che risale uno stelo, ma lui che aveva fatto ore di straordinario per riuscire ad arrampicarsi sulla fune alla lezione di ginnastica, sapeva bene quanta forza ci volesse. Quando arrivò in cima al palo, la mina si raddrizzò e fece scivolare la scure nella cintura. La traversa non doveva essere più larga di 15 centimetri, eppure vi camminò sopra con facilità sino a trovarsi sopra Marcus. Si mise a cavalcioni, incrociò le caviglie per sostenersi e si sporse sulla testa martoriata del ragazzo. Disse qualcosa che i microfoni non percepirono, ma lui doveva aver sentito, perché le sue labbra si mossero in risposta. La mina si risollevò a sedere e valutò la situazione. Poi si tenne forte, ruotò verso il basso e conficcò la lama della scure nel collo di Marcus. Una volta, due volte, e alla terza, tra gli spruzzi di sangue, riuscì a ucciderlo. Riprese il suo posto sulla traversa, si pulì le mani sulla gonna e fissò la rena. «Quella è la mia ragazza!» gridò Cucciolo. D'un tratto apparve sullo schermo, mentre la telecamera di Evansby Hall trasmetteva in diretta la sua reazione. Coriolanus si intravide, un paio di file dietro Cucciolo, e subito si sistemò meglio sulla sedia. Cucciolo fece un gran sorriso, rivelando pezzetti delle uova mangiate al mattino incastrati nell'apparecchio per i denti, e agitò un pugno in aria. «Prima preda della giornata! Quella ragazza è il mio tributo, la mina, del distretto 7!» disse, rivolto alla telecamera. Sollevò il polso. «E il mio bracciale comunicatore operativo! Non è mai troppo tardi per dimostrare il vostro sostegno e inviare un dono!» Il numero di telefono lampeggiò di nuovo sullo schermo, e Coriolanus sentì alcuni deboli tintinnì provenire dal bracciale di Cucciolo, mentre la mina riceveva doni da qualche sponsor. Aveva l'impressione che gli Hunger Games fossero più incerti e mutevoli rispetto a quanto si era preparato ad affrontare. «Sveglia!» si disse. «Non sei uno spettatore, sei un mentore!» «Vi ringrazio!» Cucciolo salutò la telecamera. «Beh, credo che qualcosina se la meriti, che ne dite?» Giocherellò con il bracciale comunicatore, e poi alzò gli occhi verso lo schermo, mentre la telecamera tornava sulla mina. Il pubblico rimase a guardare impaziente, perché quello sarebbe stato il primo tentativo di consegnare un dono a un tributo. Passò un minuto, ne passarono cinque. Coriolanus cominciava a chiedersi se per caso la tecnologia non avesse abbandonato gli strateghi, quando un piccolo drone che trasportava una bottiglia d'acqua da mezzo litro varcò l'ingresso e apparve sopra l'arena, avviandosi travallante verso la mina. Fece un giro della morte, si tuffò in picchiata e invertì persino la rotta prima di schiantarsi contro la traversa, a tre metri buoni da lei, e ricadera al suolo come un insetto spiaccicato. La bottiglia si era rotta, perciò l'acqua penetrò nel terreno e svanì. La mina fissò inespressiva il suo dono, come se non si fosse aspettata niente di meglio, ma Cucciolo sbottò in tono rabbioso. «Un momento, non è giusto! Qualcuno ha pagato un bel po' di soldi per quell'acqua!» Il pubblico mormorò il suo assenso. Non si rimediò subito all'inconveniente, ma dopo dieci minuti giunse in volo una bottiglia di rimpiazzo, e stavolta la mina riuscì a strapparla dalle grinfie del drone, che seguì la sorte del suo predecessore nello stesso trapasso polveroso. La mina beveva un sorso d'acqua di tanto in tanto, ma a parte questo, c'era ben poco movimento se si escludevano le mosche intorno al corpo di Marcus. Coriolanus sentì provenire dal bracciale di Cucciolo qualche altro tintinnio che annunciava l'offerta di nuovi doni per la mina, la quale pareva contenta di rimanere sulla traversa. Non era una cattiva strategia in realtà. Più sicura che a terra, senza dubbio. Aveva un piano. Era in grado di uccidere. In meno di un'ora, la mina aveva ridefinito la sua immagine, trasformandola in quella di una concorrente credibile dei giochi. In ogni caso, sembrava molto più dura di Lucy Gray, ovunque fosse. Il tempo passava. A eccezione di Mortifer, che ogni tanto gli spettatori vedevano a girarsi tra le tribune, gli altri tributi preferivano non mostrarsi in veste di cacciatori, neppure se armati. Non fosse stato per Marcus, messo in mostra in quel modo, e per la mina, che l'aveva finito, sarebbe stata una partenza particolarmente lenta. Di solito si poteva contare su un bagno di sangue di qualche genere come calcio d'inizio dei giochi, ma con la morte di tanti dei tributi più competitivi, in campo c'erano soprattutto prede. L'arena si ridusse a una finestrella nell'angolo dello schermo, quando comparve Lucky a svelare qualche altro retroscena dei distretti, aggiungendo anche le previsioni del tempo, tanto per andare sul sicuro. La presenza di un conduttore fisso dei giochi era una novità, terreno vergine, e lui si affannava a crearsi un personaggio. Quando Tanner si arrampicò e prese a passeggiare lungo la fila di posti più alta dell'arena, Lucky restituì rapidamente la linea, ma il tributo si limitò a restarsene seduto al sole per un po' prima di scomparire sotto le tribune. Un rumore dal fondo di Evansby Hall fece voltare tutti, e Coriolanus riconobbe Lepidus Malmsi che risaliva al corridoio con la sua troupe. Invitò Cucciolo a raggiungerlo e lo intervistò in diretta. Cucciolo, fonte di informazioni non sfruttate in precedenza, sciorinò tutti i particolari che gli vennero in mente sulla mina, e ne aggiunse molti altri che a Coriolanus parvero inventati di sana pianta, ma anche quello richiese solo pochi minuti. Si stabiliva così lo schema della mattinata. Brevi interviste informative con i mentori. Lunghi tempi morti nell'arena. Tutti accolsero con entusiasmo la pausa pranzo. «Hai mentito sul fatto che sarebbe finito alla svelta», brontolò Lisistrata, mentre si mettevano in fila per i panini con la pancetta impilati su un tavolo nella sala. «Le cose si sistemeranno», rispose Coriolanus, «devono sistemarsi». E invece no, a quanto pareva. L'interminabile, torrido pomeriggio, portò solo qualche altro avvistamento dei tributi e la comparsa di quattro avvoltoi che si misero a volare pigramente in cerchio intorno a Marcus. Usando la scure, la mina riuscì a tagliare le catene che lo tenevano legato quanto bastava per farlo crollare a terra. Per premiarla di quegli sforzi, Cucciolo le inviò una fetta di pane che lei spezzò, arrotolò facendone delle palline e mangiò una alla volta. Poi si sdraiò a pancia in giù, assicurò il corpo sottile alla traversa, legandolo con la cintura di corda, e si appisolò. Capitol News cercò di dare qualche istante di sollievo con la trasmissione in diretta del piazzale davanti all'arena, dove erano stati allestiti dei chioschi per vendere dolci e bibite ai cittadini arrivati per assistere ai giochi su due maxi schermi posti ai lati dell'ingresso. Visto che nell'arena succedeva così poco, l'attenzione finì per concentrarsi su due cani che il loro padrone aveva travestito da Lucy Gray e Jessup. Coriolanus si sentì combattuto. Non gli piaceva proprio vedere quello stupido barboncino con le balze arcobaleno del suo tributo, finò che il suo bracciale comunicatore non registrò un paio di tintini e lui decise che in fondo non si trattava di pubblicità negativa. Ma i cani si stancarono e furono riportati a casa, e intanto non succedeva ancora niente. Erano quasi le cinque quando Lucky presentò la dottoressa Goal al pubblico. Lo sforzo di mandare avanti la diretta lo aveva visibilmente stressato. Alzando le braccia al cielo in segno di sconcerto disse «Cosa succede, capo stratega?». La dottoressa Goal lo ignorò e parlò direttamente alla telecamera. «Alcuni di voi si staranno ponendo delle domande sul lento inizio dei giochi, ma permettetemi di ricordarvi che razza di folle corsa abbiamo dovuto fare solo per arrivare fin qui. Più di un terzo dei tributi non è riuscito nemmeno a entrare nell'arena, e quelli che ci sono entrati non erano proprio i più forti. Se parliamo di vittime siamo alla pari con l'anno scorso». «Sì, è vero», disse Lucky, «ma credo di parlare a nome di molti quando chiedo dove sono i tributi quest'anno. Di solito è più facile individuarli». «Forse ha dimenticato le recenti esplosioni», replicò la dottoressa Goal. «Negli anni scorsi le zone aperte ai tributi erano sostanzialmente limitate al campo e alle tribune, ma l'attacco della settimana scorsa ha aperto un'infinità di spaccature, fornendo un facile accesso al labirinto di tunnel che corrono all'interno delle pareti dell'arena. Sono giochi del tutto nuovi. La prima cosa è trovare un altro tributo, e poi riuscire a stanarlo da qualche angolo molto buio». «Ah», Lucky sembrò deluso. «Allora potremmo non rivedere più alcuni tributi?» «Non si preoccupi, metteranno tutti fuori la testa quando avranno fame», ribatté la dottoressa Goal. «Anche questa è una svolta. Con il pubblico che fornisce cibo, i giochi potrebbero durare all'infinito». «All'infinito», ripeté Lucky. «Spero che abbia in serbo molti altri trucchi di magia», rise lei fragorosamente. «Sa, ho un ibrido di coniglio che mi piacerebbe tanto vederle tirar fuori da un cappello. È in parte Pitbull». Lucky impallidì un po' e tentò una risata. «No, grazie. Ho i miei animali domestici, dottoressa Goal». «Quasi mi dispiace per lui», sussurrò Coriolanus all'isistrata. «A me no», rispose la ragazza. «Sono degni l'uno dell'altra». Alle cinque in punto, il decano Highbottom congedò il corpo studentesco, ma i quattordici mentori che ancora avevano un tributo rimasero, soprattutto perché i bracciali comunicatori funzionavano solo per mezzo di trasmittenti collocate nell'accademia o nella sede di Capitol TV. Intorno alle sette venne servita una vera cena per tutti i partecipanti al Talent, il che fece sentire Coriolanus importante e al centro degli eventi. Le braciole di maiale con patate erano di sicuro un cibo migliore di quello che mangiavano a casa. Un altro motivo per sperare che Lucy Gray restasse viva. Mentre raccoglieva la salsa nel piatto, si chiese se lei avesse fame. Quando andarono a ritirare la loro fetta di crostata di mirtilli con la panna, Coriolanus prese da parte l'isistrata per parlare della situazione. I loro tributi dovevano avere una bella scorta di cibo dopo l'incontro di addio, specie se Jessup aveva perso l'appetito, ma... L'acqua! C'era una sorgente all'interno dell'arena. E anche volendo, come avrebbero fatto a inviare lì dei rifornimenti senza rivelare il nascondiglio dei loro tributi? Era probabile che la dottoressa Gol avesse ragione riguardo al fatto che i concorrenti avrebbero messo fuori la testa in caso di bisogno. Fino ad allora, ragionarono, la migliore strategia sarebbe stata quella di aspettare. Mentre finivano il dolce, un certo movimento nell'arena riportò i mentori ai loro posti. Il ragazzo del distretto 3 di Io Jasper, Cirque, strisciò fuori dalla barricata vicino all'ingresso e si guardò intorno prima di fare cenno a qualcuno di raggiungerlo. Una ragazzina sporca, con i capelli scuri e ricci, uscì correndo dopo di lui. La mina, che ancora sonnecchiava sulla traversa, aprì un occhio per stabilire il loro livello di pericolosità. Niente paura, mia dolce la mina, disse Cucciolo allo schermo. Quei due non riuscirebbero ad arrampicarsi nemmeno su una scaletta. A quanto pareva la mina era d'accordo, perché non fece altro che sistemarsi in una posizione più comoda. Lucky Flickerman comparve nell'angolo dello schermo, un tovagliolo infilato nel colletto e uno sbaffo di mertilli sul mento. E ricordò al pubblico che i due ragazzini erano tributi del distretto 3 specializzato in tecnologia. Cirque era quello che sosteneva di poter dare fuoco alle cose con gli occhiali. E il nome della femmina è... Lucky lanciò un'occhiata fuori campo cercando il gobbo. Tesli! Tesli! Eccola lì! E a farle da mentore abbiamo il nostro... Lucky guardò altrove di nuovo. Ma stavolta apparve smarrito. Il nostro... Oh, fai uno sforzo! Borbottò Urbanus Canvil dalla prima fila. I suoi genitori, come nel caso Dio, erano scienziati di qualche genere, fisici forse. Urbanus aveva un caratteraccio e nessuno si faceva problemi ad avercela con lui per i voti eccellenti che otteneva agli esami di calcolo infinitesimale. Coriolanus pensava che difficilmente avrebbe potuto incolpare Lucky di indifferenza dopo che lui stesso aveva assaltato l'intervista. Tesli sembrava piccola, ma tutt'altro che incapace. Il nostro Furbanus Canvil! concluse finalmente Lucky. Urbanus, non Furbanus! esclamò il ragazzo. Ma insomma non potevano procurarsi un professionista. Purtroppo non abbiamo visto l'intervista di Tesli e Furbanus, disse Lucky. Perché lei si è rifiutata di parlarmi, scattò Urbanus. Immune al suo fascino, chissà come mai, disse Festus, facendo ridere tutta l'ultima fila. Mando subito qualcosa a Sirc. Chi può dire quando lo vedrò di nuovo? annunciò io, azionando il bracciale comunicatore. Coriolanus notò che Urbanus si affrettava a imitarla. Sirc e Tesli girarono rapidi intorno al corpo di Marcus e si accovacciarono per studiare i droni fuori uso. Le loro mani si mossero con delicatezza sopra le apparecchiature, valutando i danni, esaminando scomparti che diversamente sarebbero passati inosservati. Sirc estrasse un oggetto rettangolare, che secondo Coriolanus doveva essere una batteria, e mostrò il pollice alzato a Tesli. Lei ricollegò alcuni fili sul suo drone e le luci del piccolo velivolo lampeggiarono. Si sorrisero. Mamma mia! esclamò Lucky. Qui succede qualcosa di entusiasmante. Sarebbe più entusiasmante se avessero le console di comando, disse Urbanus, ma pareva un po' meno arrabbiato. I ragazzini stavano ancora studiando i droni quando ne arrivarono altri due, che lasciarono cadere del pane e dell'acqua lì vicino, più o meno. Mentre radunavano i loro droni, una figura apparve in fondo all'arena. I due si consultarono, poi raccolsero un drone ciascuno e tornarono di corsa alla barricata da dove erano venuti. La figura si rivelò essere Mortifer, che si infilò in un tunnel e ne uscì portando qualcuno tra le braccia. Quando le telecamere lo seguirono, Coriolanus vide che si trattava di Dill, così raggomitolata in posizione fetale, che sembrava essersi addirittura rimpicciolita. Fissava inebetita il sole quasi al tramonto che le chiazzava la pelle cinerea. Un colpo di tosse le fece sputare sangue dall'angolo della bocca. Mi sorprende che abbia resistito per tutta la giornata, commentò Felix, senza rivolgersi a nessuno in particolare. Mortifer girò intorno ai detriti delle bombe fino a raggiungere un punto soleggiato e depose Dill su un pezzo di legno annerito. Nonostante la calura, era scossa dai brividi. Il ragazzo indicò il sole e disse qualcosa, ma lei non reagì. Non è lui quello che aveva promesso di uccidere tutti gli altri, chiese Cucciolo. Non mi sembra poi tanto duro, osservò Urbanus. Lei viene dal suo stesso distretto, spiegò Lisistrata, e adesso sta morendo. Tubercolosi, probabilmente. Le sue parole fecero calare il silenzio, perché ancora esisteva un ceppo letale di quella roba nei dintorni di Capitol City, dove si riusciva appena a gestirlo come condizione cronica, figurarsi curarlo. Nei distretti, chiaramente, era una condanna a morte. Mortifer irrequieto andò avanti e indietro per un po', forse impaziente di rimettersi a caccia, o magari incapace di reggere la vista della sofferenza di Dill. Alla fine le diede un ultimo buffetto, e si avviò a grandi passi verso lo sbarramento. Non dovresti mandargli qualcosa, chiese Domizia, rivolta a Clemenzia. Per cosa? Non l'ha mica uccisa, l'ha solo trasportata. E non ho intenzione di premiarlo per questo, la rimbeccò l'altra. Coriolanus stabilì che aveva preso la decisione giusta, evitandola per tutto il giorno. Clemenzia non era in sé. Forse il veleno dei serpenti le aveva stravolto il cervello. Beh, tanto vale che usi quel poco che ho. Appartiene a lei, disse Felix, e digitò qualcosa sul suo bracciale. Arrivarono due bottiglie d'acqua, portate da un drone. Dill sembrò non accorgersene. Dopo qualche minuto, il ragazzo che Coriolanus ricordava come il giocoliere con le noci, sfrecciò da un tunnel, i capelli neri che ondeggiavano dietro di lui. Senza nemmeno rallentare, afferrò l'acqua, poi sparì attraverso un'ampia spaccatura della parete. La voce fuoricampo di Lucky ricordò al pubblico che il ragazzo era Trich, il tributo del distretto 7, e che il suo mentore era Vipsania Sickle. Beh, questa è cattiveria, commentò Felix. Poteva almeno dargliene un ultimo sorso. Invece è stata proprio una bella pensata, ribatteva Vipsania. Mi fa risparmiare soldi. E non è che ne abbia molti. Il sole sprofondava verso l'orizzonte, e gli avvoltoi volavano lenti in cerchio sopra l'arena. Alla fine, il corpo di Dill si contorse in un ultimo, violento accesso di tosse, e un fiotto di sangue le inzuppò il vestito sudicio. Coriolanus non riusciva ad assistere alla scena. Lo faceva stare male. Il sangue che sgorgava dalla bocca della ragazza lo sconvolgeva e lo disgustava al tempo stesso. Lucky Flickerman apparve sullo schermo e annunciò che Dill, tributo femmina del distretto 11, era morta per cause naturali. Purtroppo ciò significava che non avrebbero avuto la possibilità di conoscere meglio Felix Ravenstiel. Lepidus, possiamo fare un'ultima chiacchierata con lui da Heavensby Hall? Lepidus fece alzare Felix. Egli chiese come si sentisse, sapendo di dover abbandonare i giochi. Beh, non è uno shock, in realtà. La ragazza era allo estremo già al suo arrivo qui, rispose Felix. Credo che ti si debba riconoscere un enorme merito per averla fatta partecipare all'intervista, disse Lepidus con aria comprensiva. Molti mentori non ci sono riusciti. Coriolanus si domandò se il grande apprezzamento di Lepidus, più che altro, non dipendesse dal fatto che Felix era il pronipote del presidente, ma il suo atteggiamento non gli dava alcun fastidio. Stabiliva un precedente, descrivendo come un successo un livello che lui aveva già superato. Perciò, se anche Lucy Gray non avesse passato la notte, Coriolanus sarebbe stato comunque considerato una figura di spicco. Ma lei doveva superare la notte, e poi un'altra, e un'altra ancora, finché non avesse vinto. Aveva promesso di aiutarla, ma fino a quel momento non aveva fatto un bel niente, a parte renderla interessante agli occhi del pubblico. Di nuovo in studio, Lucky riempì Felix di altri complimenti e chiuse la trasmissione. Mentre il buio scende sull'arena, quasi tutti i nostri tributi sono andati a dormire, e voi dovreste fare lo stesso. Noi qui terremo d'occhio la situazione, anche se in realtà non ci aspettiamo molta azione finché non farà giorno. Sogni d'oro! Gli strateghi passarono a una panoramica dell'arena. Dove Coriolanus non distinse altro che la sagoma di lamina, sdraiata sulla traversa. Dopo il tramonto non c'erano luci nell'arena, tranne quella fornita dalla luna, e di solito non garantiva una buona visibilità. Il decano High Bottom disse che potevano andare a casa, anche se per il futuro sarebbe stata un'ottima idea portare con sé uno spazzolino da denti e un cambio di vestiti. Tutti strinsero la mano a Felix e si congratularono con lui per il buon lavoro svolto, e la maggior parte di loro diceva sul serio, perché la giornata aveva cementato in modo nuovo il legame tra mentori. Appartenevano a un club molto speciale che si sarebbe ridotto a un solo membro, ma li avrebbe definiti per sempre. Mentre tornava a casa, Coriolanus fece i conti. Altri due tributi erano morti, ma lui già da un po' aveva smesso di considerare Marcus un concorrente. Comunque ne erano rimasti tredici, vale a dire solo dodici avversari ai quali Lucy Gray doveva sopravvivere. E come aveva dimostrato la fine repentina che avevano fatto Deal e il ragazzino asmatico del distretto 5, sopravvivere per lei poteva voler dire semplicemente resistere più a lungo degli altri. Ripensò al giorno prima. Le aveva asciugato le lacrime, le aveva promesso di tenerle in vita, l'aveva baciata. Stava pensando a lui ora. Le mancava come lei mancava a lui. Sperava che il giorno seguente si sarebbe fatta vedere, così avrebbe potuto mandarle cibo e acqua, ricordare al pubblico la sua esistenza. Nel pomeriggio aveva ricevuto solo qualche altro dono per lei, e forse per via della sua alleanza con Jessup. A ogni orribile momento degli Hunger Games, l'affascinante immagine da usignolo di Lucy Gray faceva sempre meno colpo. Nessuno sapeva del veleno per topi a parte lui, e questo non portava alcun giovamento alla sua reputazione. Accaldato e stanco per la giornata snervante, non desiderava altro che farsi una doccia e crollare a letto, ma nell'istante stesso in cui entrò nell'appartamento, l'aroma del tè al gelsomino riservato agli ospiti si diffuse fino a lui. Chi mai poteva essere andato a trovarli a quell'ora? E il giorno dell'apertura dei giochi per di più. Era troppo tardi perché si trattasse di amici della signora nonna, troppo tardi perché fossero i vicini, che peraltro non erano mai stati tipi da improvvisate. Doveva esserci qualcosa che non andava. Gli Snow usavano di rado il televisore del salotto di rappresentanza, ma naturalmente ne avevano uno. Uno il cui schermo mostrava l'arena buia, proprio come lui l'aveva lasciata a Evansby Hall. La signora nonna, che aveva indossato una decorosa vestaglia sopra la camicia da notte, se ne stava rigidamente appollaiata su una sedia dallo schienale dritto vicino al tavolino, mentre Tigris versava in una tazza il pallido liquido fumante per la loro ospite. Perché lì c'era la signora Plint, più trasandata che mai, i capelli spettinati e il vestito tutto storto, che piangeva in un fazzoletto. Siete così cari, farfugliò. Mi dispiace tanto di esservi piombata in casa a questo modo. Ogni amico di Coriolanus è amico di tutti noi, disse la signora nonna. Plint, ha detto. Sapeva benissimo chi era ma. Solo che essere costretta a intrattenere qualcuno, addirittura un Plint, a quell'ora metteva a dura prova tutti i suoi principi. Plint, rispose la donna. Plint. Sai, signora nonna, è stata lei a mandarci quello squisito pasticcio di carne quando Coriolanus è stato ferito, le ricordò Tigris. Mi dispiace, è molto tardi, disse la signora Plint. Non si scusi, la prego. Ha fatto assolutamente la cosa giusta, osservò Tigris, battendole qualche colpetto sulla spalla. Scorse Coriolanus e parve sollevata. Ah, ecco qui mio cugino, forse lui sa qualcosa. Signora Plint, che piacere inaspettato. Va tutto bene? Chiese Coriolanus, come se la donna non trasudasse cattive notizie. Oh, Coriolanus, non va tutto bene. Non va bene per niente. Sejanus non è tornato a casa. Abbiamo sentito che è uscito dall'accademia questa mattina e io non lo vedo da allora. Sono tanto preoccupata, rispose. Dove può essere? Quello che è successo a Marcus deve essere stato un duro colpo per lui. Tu lo sai? Sai dove potrebbe essere? Era agitato quando è uscito. A Coriolanus venne in mente che la sfuriata di Sejanus, con il lancio della sedia e gli insulti, era rimasta tra le mura di Heavensby Hall. Era agitato, signora, ma non credo ci sia motivo di preoccuparsi. Probabilmente aveva solo bisogno di sbollire un po', di fare una lunga passeggiata o qualcosa del genere. Lo farei anch'io. Ma è molto tardi. Non è da lui prendere e sparire, non senza dirlo alla sua ma. Mugolò lei, inquieta. C'è un posto dove pensa che potrebbe andare. O qualcuno a cui potrebbe aver fatto visita, chiese Tigris. La signora Plint scosse la testa. No, no, tuo cugino è il suo unico amico. Che tristezza, pensò Coriolanus. Non avere amici. Ma si limitò a dire, se avesse voluto compagnia sarebbe venuto da me. Semplicemente avrà avuto bisogno di un po' di tempo da solo per... per dare un senso a tutto questo. Sono sicuro che sta bene, altrimenti lo avrebbe già saputo. Ha parlato con i pacificatori, chiese Tigris. La signora Plint fece segno di sì. Nessuna traccia. Vede? Insiste Coriolanus. Non è successo nulla. Magari a quest'ora è già a casa. Forse dovrebbe andare a verificare, suggerì la signora nonna un po' troppo platealmente. Tigris le scoccò un'occhiataccia. O potrebbe chiamare e basta. Ma la signora Plint si era tranquillizzata abbastanza ad accogliere il suggerimento. No, tua nonna ha ragione. Casa mia è il posto in cui dovrei essere. E dovrei permettere a voi di andare a dormire. Coriolanus la accompagnerà, disse Tigris in tono deciso. Dato che non gli lasciava scelta, lui annui, naturalmente. Ho la macchina che mi aspetta in fondo all'isolato. La signora Plint si alzò e si appiattì un po' i capelli con le mani. Vi ringrazio. Siete stati tutti gentilissimi. Grazie. Raccolse la voluminosa borsetta e fece per voltarsi. Quando qualcosa sullo schermo attirò la sua attenzione. Si immobilizzò. Coriolanus seguì il suo sguardo e vide una forma indistinta scivolare fuori dalla barricata e avviarsi in direzione di Lamina. La figura era alta, maschile, e teneva qualcosa in mano. Mortifer o Tanner, pensò. Una volta raggiunto il corpo di Marcus, l'ombra si fermò e alzò gli occhi verso la ragazza. Immagino che alla fine uno dei tributi abbia deciso di passare all'azione contro di lei. Sapeva di dover guardare perché era un mentore, ma prima voleva sbarazzarsi della signora Plint. «La accompagno alla macchina?» chiese. «Scommetto che troverà se Iannus già ha letto.» «No, Coriolanus», disse la signora Plint in un sussurro. «No.» Fece un cenno del capo in direzione dello schermo. «Il mio ragazzo è proprio lì.» . . . . . Grazie a tutti